La proposta di legge per regolamentare l'articolo 7 è già pronta e verrà presentata nei prossimi giorni alla prima commissione di Palazzo Moffa. In calce ci saranno le firme congiunte del Governatore Paolo Frattura e del Presidente del Consiglio, Vincenzo Niro, che aveva chiesto l'UMI alla Segreteria Generale della Camera dei Deputati sulla compatibilità del Fondo per i Portaborse con i nuovi stipendi dei consiglieri imposti dal decreto Monti. Non abbiamo ricevuto risposte rispetto alla nota che abbiamo inviato alla Camera dei Deputati, che però intendiamo mettere fine a questo argomento con una proposta di legge e assumendoci la responsabilità di presentarla entro la giornata di domani. Che prevede questa proposta di legge? La proposta di legge va a regolamentare quel fondo istituito nel 2002 nella legge regionale 7, la finanziaria all'articolo 7, in maniera trasparente e dando degli obblighi di assumere o di incaricare sia con contratti di collaborazione che con contratti di servizi personale che necessitano al Consigliere regionale. Insomma, gli abbiamo dato una regola per l'utilizzo di quei fondi che non arrivano più al Consigliere regionale, ma che all'interno della proposta di legge è previsto che la gestione dei pagamenti e anche sotto l'aspetto previdenziale e assistenziale avvenga per il tramite del Consiglio regionale. Nel frattempo però l'articolo 7 continuerà ad essere erogato ai singoli consiglieri? Ma quello è un obbligo, è un fondo, è una voce di bilancio. Per quanto mi riguarda, sentendo anche le strutture competenti, non mi pare che ci sia la possibilità di poter rinunciare anche in applicazione del recepimento del 174 e quindi dell'applicazione della nostra legge regionale 10 dello scorso luglio 2013. Si può rinunciare a parte o interamente all'indennità, ma non a quella voce specifica. Per cui io credo che nel futuro andremo a definire, a interpretare quelle richieste di sospensione che sono accantonate in attesa di essere riassegnate, però credo con la nuova disciplina. La legge è stata depositata in mattinata e prevede che il fondo verrà gestito dalla Regione che provvederà ad assumere direttamente i collaboratori su segnalazione dei singoli consiglieri. Soddisfatto il Presidente Frattura che ha dichiarato ancora una volta abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti rispettando per di più la normativa europea.